Ciao ragazzi, io sono Nicolò, bentornati a SoulCorder, l'appuntamento del lunedì in cui diamo un'occhiata a tutto ciò che sta succedendo nel mondo delle sneakers. Come sentite oggi avrò la voce un po' intasata, ieri c'è stato il Kikit a Bologna, io sono ancora distrutto, oggi è lunedì mattina, proprio lo stesso lunedì mattina in cui molti di voi stanno vedendo questo video e non so se mi sono raffreddato o semplicemente un po' il naso intasato in questo momento, ma non si molla, quindi direi di non perdere assolutamente altro tempo e cominciamo subito. E come al solito subito diamo un'occhiata alle release che abbiamo visto settimana scorsa, quelle più importanti, a partire dal 26 che c'è stata una doppia release, un tripla release, una situazione un po' strana diciamo. Ci sono state innanzitutto le due Dunk Low che già abbiamo descritto, le Polar Blue e le Grey Fog, prezzi di retail di 120 euro, non hanno riscosso un grande successo il giorno del drop, però durante i giorni successivi Nike ha dato la possibilità di acquistarle con degli sconti, quindi che fossero gli sconti del compleanno, dei sconti con 20 euro e meno, quindi tante persone sono riuscite a prenderle scontate. Lo stesso giorno però Nike ha deciso abbastanza dal nulla di rilasciare degli accessi esclusivi per le Jordan One High Lost and Found. Erano veramente pochissimi della serie che, tra tutti i gruppi di sneakers in cui sono, ho visto tipo una foto di una persona che è riuscita a prenderle che ha avuto questo accesso esclusivo, ma in ogni caso si trattava di uno stock veramente basso comunque, quindi non mi sorprende che fossero veramente pochissimi questi accessi esclusivi. Non si capisce assolutamente che caspita stia facendo Nike con queste Lost and Found, perché a quanto pare non sono ancora completamente finite, perché c'erano a quanto pare infatti meno accessi esclusivi che Paia disponibili in questo caso. Non si capisce cosa sta succedendo, prima o poi magari le finiranno per davvero queste Lost and Found. La release più interessante però della settimana è stata sicuramente il 28 tramite il sito di Born Raised, una delle SB Dunk più importanti dell'anno, se non la più importante dell'anno per tutto il trascorso che c'è dietro, ma ancora non è finita qui, infatti sul 28 le hanno rilasciate tramite il loro sito, tramite una release worldwide, quindi disponibile in tutto il mondo, ma spedita dall'America, quindi se avete acquistato verso l'Italia aspettatevi la dogana. È stato sicuramente un drop difficile, ma non assolutamente impossibile. Infatti tante tante persone ho visto che sono riuscite a prendere tranquillamente manual, anche semplicemente dal loro telefono, e sono rimaste molto contente. Io, ad esempio, invece no. Il giorno successivo, il 29, su Sneakers c'è stata la release delle Dunk SB Albino, è in preto, albino è in preto, ormai non capisco come caspita si chiamano, prezzo di retail 130 euro, erano piuttosto limitate, ma anche qui ho visto una buona quantità di success di persone che sono riuscite a prenderle. Infine, per chiudere, il 30 di settembre, Jordan 8 Playoffs, che hanno riscosso un successo molto più grande di quello che mi aspettavo. Mi aspettavo che magari sarebbero andate sold out nei giorni seguenti, ma in realtà tutte le taglie dal 41 in su sono del sold out già la mattina stessa, magari non nell'immediato alle 9 del mattino, però ci hanno messo veramente poco a sparire tutte le taglie più grosse. Sono molto contento di questa cosa perché si tratta di una scarpa quasi prettamente per collezionisti. La Jordan 8 non è un modello che ha hype o che viene utilizzato giorno per giorno come scarpa da outfit. È una scarpa che viene utilizzata o da chi vuole giocare a basket, ma chi vuole giocare a basket ha altre opzioni, diciamo, o chi vuole collezionarle, anche perché la playoff è una delle colorway oggi. Per le release importanti di settimana scorsa dovrebbe essere tutto. Direi che adesso possiamo passare a vedere quali sono le notizie più importanti e ci sono tante immagini ufficiali di tante scarpe molto molto belle, ragazzi. Cominciamo con calma dalle cose magari leggermente meno interessanti, diciamo, che onestamente però questa Air Force 1 Molten Metal a me devo dire che piace veramente tanto. Molto molto bella, fatta molto molto bene, con i dettagli inseriti nel modo giusto che si notano per bene senza andare a dare troppo fastidio, secondo me. Infatti, come potete vedere, lo svush in questo caso è stato ricoperto da questo pannello, definiamolo, di metallo bucherellato, che sembra appunto Molten Metal, sta per metallo fuso. E in più troviamo anche tanti altri accessori intorno ai lacci. Anche in questo caso sono di questo metallo fuso e devo dire che sono veramente molto molto belli. Il discorso è non so che tipo di qualità avrà questa scarpa, perché a me intriga tanto, ma se devo ritrovarmi con la classica Air Force 1 in plasticone cartonato, preferisco evitare, onestamente, nonostante sia una bella release. Io penso che proverò a prenderle e poi, una volta vista dal vivo, deciderò se tenermele o meno, perché come look, secondo me, sono veramente eccezionali. Al momento la release non è ancora stata fissata, ma sembra essere prevista entro la fine del 2023, quindi non dovrebbe mancare molto. Abbiamo un altro paio di first look, prime immagini di alcune scarpe che dovremo vedere nei prossimi mesi, in realtà queste qui si tratta più dell'anno prossimo. Mi riferisco innanzitutto alle SB Dunk Valentine dedicate appunto al giorno di San Valentino per l'anno prossimo. Colorway molto particolare, perché sì, comunque ha delle tonalità di rosso, ma sono molto più tendenti al marrone, al borgogna come colore. Molto particolare, dettagli veramente interessanti, e sicuramente sarà un SB molto molto richiesta l'anno prossimo, soprattutto se la faranno in quantità molto limitate, cosa che probabilmente succederà. In ogni caso, al momento non abbiamo una data ufficiale, ma possiamo prevedere che verrà rilasciata intorno al periodo di San Valentino, quindi intorno a metà febbraio dell'anno prossimo. L'altra scarpa, sempre prevista per l'anno prossimo, e bene o male circa anche lo stesso periodo, in questo caso ci troviamo nel periodo definito come Spring 2024, sto parlando della Jordan 4 in colorazione Sail. Molto particolare, al momento abbiamo soltanto questa immagine, che come potete vedere ci mostra una Jordan 4 completamente bianca, sembra bianca da questa foto, ma mi aspetto che a questo punto sarà una colorazione più tendente al Sail, più tendente a un color crema, direi. Gli unici accenti di colore sono quelli in oro metallizzato, che possiamo trovare in questo caso sulle alette dei passanti per i lacci. Sicuramente una bellissima colorway, il più grande problema è che verrà rilasciata soltanto in taglia da donna. Al momento non si sa ancora se arriveranno anche in Extended Sizing o meno, però è già confermato che sarà appunto Women's Sizes. Sicuramente sarà una Jordan 4 molto molto richiesta e molto molto bella. Vedremo poi l'anno prossimo come si svolgerà la situazione, e quando abbiamo immagini ufficiali un po' più belle rispetto a questa qua, sicuramente ve le farò vedere. Passiamo alle cose un po' più calde, un po' più interessanti. A partire dalle Jordan 5 Amamanier, nella colorazione Photon Dust abbiamo già le immagini ufficiali, caricate direttamente dal sito di Nike. Queste sono le immagini ufficiali che verranno utilizzate proprio da Nike durante il rilascio della scarpa, e ci fanno vedere che, come in realtà già sapevamo, si tratta di un pezzo assurdo, una scarpa veramente bellissima, che io avrò, avrò ad ogni costo, cioè devo averla per forza, non posso mancarle queste release. Spero di riuscire a prendere la retail, ma non sarà assolutamente facile, il prezzo di retail dovrebbe essere di 225 o addirittura 230 euro, quindi piuttosto alto anche già semplicemente in retail, ma mi aspetto un interesse abbastanza alto. La cosa nuova, vera, che emerge da queste immagini è il box ufficiale, che come potete vedere è piuttosto semplice, bello, molto elegante, assolutamente su questo non ci piove, forse mi aspettavo qualcosa di leggermente diverso, non so se magari anche in questo caso ci saranno poi delle coperture in plastica come è solito fare per Ama Manier, però per il momento abbiamo questa immagine ufficiale, quindi credo di no onestamente. Il vibe che dà questa scarpa, secondo me è veramente eccezionale, ha comunque un buon vibe in stile off-white, con le parti ingiallite che sembrano appunto già pre-invecchiate, ed è un look che si discosta anche dai colori che normalmente utilizza Ama Manier, nel senso che, ok, l'ingiallimento e la tomaia in colorazione sale sono colori piuttosto normali per Ama Manier, per le collaborazioni tra Jordan e Ama Manier, ma questo blu, questa colorazione Photon Dust, è una cosa leggermente diversa, che onestamente a me piace molto, sono molto contento e non vedo l'ora di poterle vedere dal vivo. Ma le altre immagini che abbiamo visto in questo caso, non ufficiali per la release, perché è decisamente molto presto, ma sono delle fotografie finalmente fatte veramente bene, sono quelle delle Jordan 4 Bread Reimagined, previste al momento per il prossimo, se non erro, 17 di febbraio, che dovrebbe essere il sabato dell'All Star Weekend. Non sono sicuro che sia il 17 dovrei andare a controllare il calendario, in ogni caso è il weekend dell'All Star Weekend. Quindi già un weekend interessante di per sé, reso ancora più interessante grazie a questa fantastica release. E come si vede da queste immagini ufficiali, la scarpa, ragazzi, è bellissima. Può piacere o non piacere il fatto che abbiano cambiato il Nubac, Durabac, con la pelle liscia, in questo caso tamburellata, però la scarpa è comunque bellissima, è comunque una Jordan 4 Bread, il look è molto, molto simile, se non quasi identico, alla versione oggi in Durabac. Io onestamente non vedo loro che escano e le prenderò al 100%. Con il fatto che sono di questo materiale saranno anche più durevoli rispetto al Durabac che è molto più delicato e molto più difficile da pulire o da sistemare in caso si sporchi. Sicuramente un punto da tenere a mente sarà la qualità dei materiali, la qualità della costruzione. Esattamente come tutte le altre Reimagine che abbiamo visto, vedremo anche a breve con le Royale Tour. Per il momento la qualità di queste release non è stata veramente eccezionale, proprio a livello di materiale, di costruzione della scarpa. A livello di successo, in realtà non gli si può dire niente. In ogni caso, come dicevo, febbraio 2024, io sono pronto. Infine, diamo un'occhiata veloce alle date di release previste per Summer 2024. Per quanto riguarda i modelli Jordan, non in collaborazione. Ci sono una buona quantità di scarpe, diamo un'occhiata rapidissima insieme alle date. Innanzitutto moltissime di queste immagini non sono ufficiali, sono soltanto dei rendering. Diciamo che la scarpa uscirà con un color blocking simile a quello che stiamo vedendo in questo momento. Ad esempio, già potete vedere il 20 aprile questa Jordan 4. Non sono sicuro che sia la Sale, ma potrebbe essere la Sale, che invece è come l'abbiamo vista poco fa, non come vedete in questa immagine. Insomma, avremo un bel po' di scarpe, tra cui le più importanti, come potete vedere, saranno sicuramente il 20 di aprile questa Jordan 5 in colorazione Sale. se dovesse essere con questo stile è veramente bellissima. Questa Jordan 3 il 4 di maggio in stile Fire Red con dei dettagli però più ingialliti, molto molto bella anche questa. Ovviamente 11 di maggio a quanto pare per ora è la data ufficiale Jordan 4 Military Blue assolutamente da avere e da prendere. Proseguiamo con questa Jordan 1 il 25 di maggio in colorazione Red, White, Burgundy, non si capisce bene che cosa dovrebbe essere, che poi viene seguita il 29 di maggio dalla colorazione Latte che a quanto pare sarà semplicemente Women's. Al momento io non sono per niente emozionato per l'arrivo di questa scarpa. 12 giugno abbastanza interessante una scarpa che un po' hanno sbagliato questa Jordan 1 Low Pine Green con però dei dettagli in rosso mi sembra un po' troppo natalizia per farla uscire il 12 di giugno secondo me che già non sarebbe così bella neanche sotto Natale quindi figuriamoci il 12 di giugno. Le altre due interessanti per il momento non hanno una data definita una data precisa però a giugno 2024 vedremo questa Jordan 1 High stile denim carina abbastanza interessante e poi Summer 2024 sarà prevista questa Jordan 2 barra 3 Low sicuramente per questa nuova Silhouette Fusion ci sarà molto più interesse. Chiudiamo infine con le release più interessanti che ci aspettano questa settimana non sono tante ma c'è qualcosa comunque di abbastanza interessante per cui vale la pena tenere gli occhi aperti a partire subito dal 4 di ottobre in cui verranno rilasciate le New Balance 991 V2 in collaborazione con Stone Island prezzo di retail piuttosto alto di 270 euro ma se posso dire la mia mi aspettavo un retail più alto essendo una collaborazione già su un modello 991 che di base parte da un retail di circa 230 250 euro più Stone Island che comunque è un brand luxury con dei prezzi piuttosto alti 270 euro alla fine è quasi comprensibile preparatevi perché saranno limitatissime al momento il 4 di ottobre la release è fissata sul sito di Stone Island e sugli altri retailer che avranno le raffle quindi alcune raffle sono già aperte e stanno per chiudere se siete interessati mi raccomando muovetevi invece il 6 ci sarà la release globale o comunque quantomeno europea delle Dunk SB Born Raised in questo caso per quanto riguarda gli Skate Shop infatti tanti Skate Shop hanno già la loro raffle aperta per la release di questa scarpa mentre altri probabilmente apriranno la raffle nei prossimi giorni quindi se volete un'altra possibilità tenete gli occhi aperti sempre lo stesso giorno tramite l'App Sneakers verranno rilasciate altre due colorway delle Air More Up Tempo in collaborazione con Ambush prezzo di retail piuttosto alto di 215 euro però le scarpe secondo me sono veramente molto fighe soprattutto la colorway nera saranno molto molto limitate ho visto i numeri di stock e vi assicuro con circa 1000 paia in totale tra i due diversi modelli il modello rosa e verde molto molto più limitato del nero e direi fortunatamente infine chiudiamo il 7 di ottobre con le Jordan 6 acqua tramite l'applicazione sneakers al prezzo di retail di 210 euro una release che molto probabilmente non avrà molto hype ma che comunque secondo me è anche abbastanza carina bene ragazzi direi che per questo episodio di Soul Corner è tutto fatemi sapere cosa ne pensate delle notizie che abbiamo visto oggi io sono sempre più in hype per la release delle Jordan 5 in collaborazione con Ama Manier ma c'è ancora un mese e mezzo da aspettare quindi bisogna ancora avere un po' di pazienza se questo video vi è piaciuto e come al solito vi invito a lasciare un like e iscrivervi al canale e noi ci vediamo alla prossima un po' di pazienza un po' di pazienza